Hanno provato in vano a rompere la vetrina antisfondamento del locale, poi hanno frantumato quella della porta e sono riusciti ad introdursi all'interno del negozio 3 in via Roma a Fano. Ieri sera intorno alle 22.15 alcuni malviventi si sono fiondati nella parte destra dove erano esposti i telefoni finti. Tra l'altro anche scritto in un foglietto affisso al mobile, ma forse nella foga del momento i ladri non si sono accorti e hanno portato via decine di cellulari senza valore. In genti invece i danni reccati alla struttura. Sono entrati due o tre bar uomini, hanno spostato le vetrine, per fortuna c'erano dei telefoni finti esposti a posto di quelli veri, quindi il danno è stato più piccolo. Chi ha lanciato l'allarme? Il negozio stesso, l'allarme, poi sono avuti i carabinieri alle 11, quindi un pochino in ritardo e siamo stati anche noi avvisati del furto. Anche i residenti dell'abitazione di fronte hanno sentito un forte rumore? Sì, però non hanno avvisato, perché l'allarme è collegata direttamente alla caserma qui a fianco, quindi tramite questo ho avuti i carabinieri qui. Siete riusciti a quantificare invece i danni alla struttura? Eh, quantificare no, ma ripetendo che comunque fortuna i telefoni non erano quelli veri, siamo intorno a cifre 2-3 mila euro, 4 mila euro. Invece al centro diesel, in via dell'industria, a Fanno, hanno tentato di mettere a segno un furto, ma qualcosa per i ladri è andato storto. Intorno alle 5 di questa mattina è arrivata una segnalazione alla centrale operativa della Vigilar, la pattuglia più vicina. Dopo pochi minuti è giunta sul posto e ha subito notato una porta aperta con chiari segni di scasso, ma all'interno dello stabile non c'era più nessuno. Evidentemente i malintenzionati sono stati disturbati dal sistema di sicurezza e dal pronto intervento della vigilanza privata. E quindi il colpo è andato a vuoto, avvisato anche il titolare che dopo un controllo ha capito, sollevato, che non era stato rubato nulla.